Buona domenica a te trader che hai voglia di controllare i cicli superiori degli indici, in questo caso del FTSE MIB, dell'indice italiano, per andare a prepararti ai trade che farai da lunedì con le tendenze principali e con il trend principale in modo da non rischiare di perdere soldi in questo mercato che è estremamente sfidante. La situazione attuale a livello di analisi ciclica voluta, di cui puoi sapere tutto andando sul sito analisievoluta.com e l'evoluzione dell'analisi tecnica e dell'analisi ciclica di Hurst e del Migliorino, la situazione sul MIB è questa, di inverso, cioè i cicli che partono da massimi, fanno minimi e tornano su massimi, abbiamo fatto un primo mensile inverso, un secondo, un terzo e se non avessimo, non avendo la possibilità fortunatamente di fare un bisettimanale inverso a chiusura di un trimestrale inverso, siamo anche arrivati a 94 barre su minimo 96 che può durare un semestrale che in questo caso può essere composto a tre tempi invece che a due, invece che avere un semestrale fatto da due trimestrali, lo possiamo avere fatto da tre mensili inversi, primo, secondo e terzo. Per andare a completare il secondo mensile inverso, dato che siamo arrivati a una condizione necessaria e sufficiente per la chiusura del settimanale, del terzo settimanale inverso, del terzo mensile inverso, siamo una matriosca, giusto? E siamo già arrivati alla sesta barra, durata minima di un settimanale, che cosa può succedere? O andiamo direttamente a sbattere contro questa resistenza dinamica e volumetrica che si muove nel corso del tempo e grazie ai volumi a 35.073, oppure possiamo direttamente scendere per andare in chiusura di questo bisettimanale. Successivamente, però, alla chiusura del bisettimanale, proveremo ancora a salire proprio per chiudere questo mensile inverso che si è vincolato a continuare a salire per tutta la sua durata, che può arrivare solo a 24 barre o al massimo a 43. Se vogliamo andare a 24 barre, mancano 4 barre, se lo aggiungiamo all'ultimo t settimanale, andiamo a 10 barre e un ciclo settimanale può durare al massimo 11 barre, quindi ci sta, e quindi se hanno voglia, invece che scendere, possono tirare sempre su, spingere su con HFT, oppure, appunto, prima chiudere lato indice, il bisettimanale e poi tornare a salire. Ok? In ogni caso, l'aspettativa, sia che si scenda un po', che si tiri direttamente su dritti, è quella di tornare a finire, di andare più che altro sopra il massimo assoluto di questa candela a 34.737 e verso, appunto, questa resistenza dinamica che ho tracciato. sotto abbiamo un supporto dinamico, anche questo te l'ho messo per sicurezza, che poi passa in concomitanza della media mobile blu, del livello superiore dell'accumo della nuvoletta verde e questo per quanto riguarda l'inverso, che è più facile e che ci guida. Lato indice abbiamo, ormai con tutto questo movimento fatto abbiamo un, potenzialmente non soltanto un trimestrale, ma anche un nuovo semestrale che sta partendo con una forza pazzesca, ma che è in ritardo rispetto agli altri indici, perché sai che su DAX siamo sui massimi assoluti, mentre invece qui i massimi assoluti su MIB li abbiamo fatti il 20 di maggio, su questa candela, prima, anzi, dopo lo stacco dei dividendi dell'1,42, perché qui ricordiamoci che su MIB abbiamo sempre il discorso dello stacco di dividendi da valutare. Per questo motivo, fino a quando non arriveremo sopra questo massimo a 35.118,73, non avremmo un potenziale vincolo di inverso o che cosa? Ho una chiusura di annuale inverso arrivato a 296 barre su massimo 336 giornaliere. Tutto si incastra perfettamente. Aggiungo anche la considerazione che sotto questo massimo ci siamo da 94 barre, quasi da un semestrale, quindi l'ipotesi di partenza persino di un nuovo annuale inverso è lì, eh? E se questo fosse un annuale inverso, cosa? Molto possibile? E tornassimo appunto sopra questo massimo a 35.118,73, lo vincoleremmo a continuare a salire. Giusto? E saremmo soltanto alla metà della sua durata. Quindi è importante vedere che cosa si farà proprio su questa resistenza che pochissimo prima viaggia per adesso, poco prima che si possa arrivare appunto al massimo assoluto ed è importante anche capire che cosa sta succedendo lato indice. Qui rispetto all'S&P 500 abbiamo avuto una possibile condizione necessaria sufficiente di chiudere un annuale qua a 197 barre e poi stiamo costruendo tempo per farne partire un altro, anche se sappiamo perfettamente che con 235 barre abbiamo ancora 100 giorni per eventualmente chiudere questo annuale. Ma se appunto inizieremo ad andare sopra questo massimo assoluto, il rischio di un vincolo, rischio tra virgolette, di un vincolo di continuazione di salita c'è e quindi di partenza di nuovo ciclo annuale da qui. quindi il quinto di un T più 7 che poteva già chiudere a 3 o 4 anni e invece sta spingendo con una forza notevole e ci ha permesso di uscire da questo genere di discesa, prendiamola da qua a qua, che ci aveva portato meno a 13% in pochissimo tempo. Una forza straordinaria, veramente. Per cui ricordiamoci che appunto il trend principale è a rialzo e che quando si sta osservando un grafico e si osservano dei cicli superiori tra T più 7 e T più 7 inversi, quindi tra cicli a 4 o 5 anni, anche le finte sono estremamente grosse perché una finta tra un T più 7 inverso e un T più 7 inverso appunto conta per un semestrale inverso e noi stiamo andando a completarlo come tempo. Questo potrebbe essere un raccordo gigantesco tra T più 7 inversi, ossia quadriennali. Se lo fosse, dovunque lo chiuderemo oltre le 96 barre, poi inizierebbe una forte discesa e quindi bisogna fare molta attenzione alle prossime settimane e ai prossimi mesi e potremmo controllare in quale delle varie ipotesi che abbiamo in questo momento sul tavolo saremo grazie come di consueto agli swing e ai volumi. E a quel punto potremmo scremare le varie ipotesi che abbiamo. Qui abbiamo anche il grafico a 15 minuti sul quale stiamo appunto andando a vedere a che punto siamo arrivati. Qui siamo oltre appunto la condizione necessaria e sufficiente proprio per chiudere tutto un settimana all'inverso. Punto focale possiamo settare appunto anche questo perché se dovessimo andare qui sotto potremmo avere un vincolo su un T meno 3. Quindi sotto i 34.576,80 potremmo avere vincolo su T meno 3. anche questo me lo segno perché abbiamo swing e tempo per aver fatto partire il nostro sesto T meno 3. Chi è che ci racconterà in anticipo se scenderemo per chiudere questo ciclo bisettimanale oppure continueremo a tirare su dritti? Come di consueto la media mobile a 50 periodi? Se andremo in violazione andremo in chiusura anche del nostro ciclo bisettimanale. Se invece non andremo in violazione a quel punto continueremo a salire fino eventualmente anche all'undicesimo ciclo giornaliero come appunto detto e si può andare a chiudere persino un mensile di inverso e vedere poi che cosa succede appunto con questa porzione di grafico che potrebbe essere un enorme raccordo tra quadri annali. Se ti è piaciuta questa analisi ricordati sempre che sono anche presente su Twitter con questo canale su cui a volte appunto aggiungo dei contenuti a volte anche divertenti per carità e il weekend per tutti piuttosto che ti faccio vedere i trade andati in gain, trade fatti dal vivo durante la trasmissione House of Trading in concomitanza, anzi in partecipazione con Benpe Paribas. C'è la nuova pagina Facebook analisi evoluta che è proprio appena nata in cui anche qui darò contenuti differenti e metterò anche delle foto finalmente di un evento che sono arrivate prossimamente, quello con Swissquote invece e ti ricordo che se vuoi un aggiornamento appunto dal vivo sui mercati appunto c'è l'appuntamento con Swissquote del martedì alle ore 18 solitamente a meno che non rischi di andare in sovrapposizione con House of Trading che faccio con Benpe Paribas. Ti ringrazio per il tuo tempo e se ti è piaciuto il video e se ti è dato tante informazioni su come fare trading la prossima settimana sul MIB metti un bel like e condividi il canale con tutti. Buona domenica!